Viaggia veloce nel mondo sul filo della magia, l'onda sonora dei Junior Sax, un'onda che negli anni ha conquistato consensi e titoli in tutto il mondo. Un percorso condiviso da tutor e allievi, nato nel 2012, che per lo spessore e l'originalità della proposta è diventato un modello da seguire da chi crede e investe nella musica, con occasione di crescita e formazione professionale, ma anche sociale. Nel video che accompagna il nostro servizio ci sono le immagini della straordinaria esibizione sul prestigioso palco del Teatro di Vienna. Lunedì sera a Duomo di Avellino, con l'inizio delle 20 e 30, un'occasione da non perdere per assistere al concerto che la formazione composta da 80 sassofonisti terrà per presentare il terzo album, Onda Sonora, un CD che rappresenta un punto di svolta per la sonora Junior Sax, visto che sarà prodotto dalla prestigiosa etichetta della Stradivarius di Milano. Una griffa nel mondo delle sette notte che preme il talento dei giovani musicisti, l'impegno dei tutor Luigi Cioffi, Angela Colucci, Nicola De Giacomo, Michele Dauri, il direttore d'orchestra Domenico Luciano. Il terzo CD della nostra orchestra è quello più importante, perché è prodotto da un'etichetta discografica la Stradivarius di Milano, come dicevi, sarà bello perché noi avremo le prime copie qua fisiche, però poi tra meno di 15 giorni sarà venduto su tutte le piattaforme online in tutto il mondo, quindi per la prima volta l'orchestra potrà viaggiare almeno musicalmente in tutto il mondo. Quindi ci tenevamo tanto a fare una presentazione molto particolare, anche il CD è nato in maniera particolare perché è l'insieme del repertorio di due anni che ci ha visto l'anno scorso protagonista per la seconda volta al concorso mondiale di Vienna e poi tutte le scelte sono state fatte tutte e quante in democrazia. Perché in democrazia? Perché abbiamo dato input sui titoli dei brani e sulle nostre pagine social i nostri follower hanno scelto alcuni dei brani che stanno sul CD, abbiamo proposto dei titoli e sempre i nostri follower hanno deciso il titolo che avrà questo CD. La sonora Junior Sax è riconosciuta tra l'altro da quest'anno come orchestra regionale, ma quali saranno gli obiettivi di quella che lei definisce la famiglia sonora? Parteciperemo al terzo European Congress del Sassofono che si terrà a Trento quest'anno in cui avremo la possibilità di suonare con solisti provenienti da tutto il mondo e dove ci sarà una platea di oltre 3.000 sassofonisti che arrivano da tutta Europa. Inoltre saremo poi ospiti la settimana successiva, il 23 giugno, a Caivano, proprio ospiti della regione Tiscabec per l'organizzazione di questo grande evento che verrà aperto il 21 da Big Mama, poi ci saremo noi e nel cartellone ci saranno anche i The Colors. Quindi è un bel cartellone, siamo molto fieri di esserci.